Non tutti i bambini hanno le stesse opportunità. Per combattere la povertà educativa, il progetto Cultura in Azione parte proprio dai più piccoli. Rivolto alle famiglie di Sondro e Tirano, intende proporre attività ludiche e culturali nel territorio valtellinese. Con questo progetto vogliamo aiutare a colmare, per quanto possibile, situazioni di svantaggio, dice in una nota Forme Impresa Sociale, che ha promosso l'iniziativa con il contributo della Fondazione Pro Valtellina Ollus. Attraverso lo strumento della relazione, bambini e adulti potranno scoprire il patrimonio culturale del proprio territorio, superando barriere sociali e culturali, costruendo una comunità educante nuova. Tutti possono entrare in azione come volontari, eseguire un breve percorso di conoscenza e formazione per poter accompagnare ogni bambino a scoprire il bello che ci circonda. Guardare un film, andare in un museo o a teatro, visitare una fattoria didattica, sono alcuni esempi delle attività che potranno fare insieme bambini e volontari. È possibile inoltre entrare in azione come esercenti culturali, quindi musei, cinema, teatri, fattorie didattiche, che decidano di partecipare con le loro iniziative. Un'alleanza, quella tra sociale e cultura, che fa bene al territorio, dice Elisa Danza, direttore di Forme Impresa Sociale. È anche l'occasione per sensibilizzare persone e famiglie con un piccolo gesto ad aiutare un bambino a crescere più sereno. Speriamo il territorio accolga questo nuovo progetto con entusiasmo e disponibilità. Tutte le informazioni sul progetto e moduli per candidarsi sono consultabili sul sito di Forme Impresa Sociale. Tutte le informazioni sul progetto e moduli per candidarsi sono consultabili sul sito di Forme Impresa Sociale.